C'è un'Italia che andrà ai mondiali di calcio, è la nazionale femminile che conquista la qualificazione per Francia 2019. Doriana Larraia. Abbiamo vinto sette partite su sette, questo è il nostro regalo, ce lo dovevamo fare, è un sogno che si realizza, adesso testa Francia. Le giocatrici della nazionale azzurra corrono a festeggiare gli abbracci e la gioia allo stato puro. L'Italia delle donne vola in mondiale francese 2019 dopo la settima vittoria, questa volta 3 a 0 sul Portogallo. Le nostre ragazze centrano l'obiettivo fallito dalla nazionale maschile a novembre, firmando un'impresa che al calcio femminile italiano mancava da vent'anni. Assegno per la formazione guidata da Milena Bertolini al quarto del primo tempo di testa, Cristiana Girelli. Raddoppia al tredicesimo Cecilia Salvai e confeziona il Tris al novantunesimo Barbara Boransè. Grande motivazione, intensità, voglia e volevano a tutti i quali mondiali. Sono felice, ma sono felice per loro soprattutto, ma per tutto il movimento. Crescita agonistica e culturale di tutto il calcio femminile che in Italia comincia a destare grande interesse. Del resto, anche in quest'ultimo match vinto sul Portogallo, le calcettrici azzurre hanno messo in campo cuore, gioco, spirito di gruppo e grinta. Gli ingredienti vincenti che attirano sempre più appassionati. 7.000 al franchi di Firenze.